Non sono tutti i miei amici di AndroidWorld.it, allo stand Alcatel Mobile World Congress non abbiamo un vero e proprio top di gamma ma abbiamo uno smartphone decisamente particolare. Parliamo dell'Alcatel A5 LED e il nome ci svela già cosa c'è di nuovo. La back cover infatti, anche se non sembra rivelare nulla di che al primo aspetto, è composta da LED che si illuminano e adesso vi facciamo subito vedere come. Tramite l'app Light Show possiamo vedere i giochi di LED che si creano sulla cover e che cambiano scuotendo il telefono. Come potete vedere ci sono diverse animazioni ma prima di spiegarvi un po' meglio come funziona questa back cover decisamente particolare, vi andiamo a fare una carrellata delle caratteristiche tecniche. Questo dispositivo è un 5,2 pollici HD, ha un processore octa-core con 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, fotocamera frontale da 5 megapixel e fotocamera posteriore da 8 megapixel. La particolarità ovviamente del dispositivo che ricordiamo viene di 249 euro è ovviamente la back cover che può essere personalizzata a seconda dell'utilizzo che ne vogliamo fare. In questo momento infatti siamo nella modalità, tra virgolette, libera, quindi possiamo giocare un po' con tutte le animazioni che preferiamo, questa dovrebbe ricordare le fiamme, poi abbiamo luci cittadine che ovviamente riprendono le luci della città e tante altre animazioni, petardo, ritmo e così via. Tuttavia, oltre ad avere questo ovviamente aspetto estetico interessante, la particolarità di questa back cover è che può essere utilizzata anche per applicare degli effetti in base alla musica che stiamo ascoltando, come potete vedere anche in questo caso possiamo scegliere i diversi tipologie di animazioni e vi facciamo subito vedere come avviando la musica avremo degli effetti in base alla musica appunto che viene riprodotta. Quindi questo è il nostro audio e i led sul retro cambiano in base alla musica che viene riprodotta per l'appunto. Continuando, mettendo in pausa la musica, vi facciamo vedere altre funzionalità dell'applicazione decisamente particolari. Abbiamo alcuni ciocchini, come suggerisce l'icona stessa, ad esempio Cheer Now, che ci permette di riprodurre delle animazioni sulla back cover in base al suono che riproduciamo. Quindi io adesso dirò ciao a tutti i lettori di androidworld.it, bla bla bla, perché ho 10 secondi per parlare e sennò anche hanno ancora 3 secondi, ciao ciao ciao. E lo smartphone ripeterà, utilizzerà un'animazione in base a quello che ho detto. Ecco adesso magari l'effetto non è così figo, se lo utilizzate a un concerto o qualcos'altro sarà qualcosa di più interessante probabilmente. Oltre a questo qui abbiamo una cosa probabilmente ancora più interessante, che è la possibilità di personalizzare le notifiche con la back cover per l'appunto, quindi ad esempio immaginate che ricevete una notifica Facebook che si illumina di blu con il logo di Facebook, una notifica Snapchat che si illumina di giallo e così via. Quindi sapere subito che cosa sta facendo vibrare il vostro smartphone e anche poterlo personalizzare a seconda delle persone che vi chiama o che vi invia un messaggio. Infine c'è una modalità che permette di far illuminare la back cover come il materiale diciamo su cui viene poggiata, quindi assorbe tra virgolette il colore e la trama del materiale. E a proposito di assorbire materiale e trama, qui vi facciamo vedere un'altra modalità che permette di personalizzarla con i colori in questo modo, dicevamo a proposito di personalizzare lo smartphone con colori e trame, vi facciamo vedere quest'altra cosa interessante che è la possibilità di creare una trama per lo sfondo a seconda di cosa inquadriamo. Come vedete lui analizza i colori principali che riesce a trovare, se noi inquadriamo questo blocco di Alcatel, lui realizzerà una trama, non sappiamo bene con quale criterio, visto che non c'erano blu e giallo nella scherma, ma va bene comunque, realizzerà una trama e delle icone delle applicazioni a seconda di quello che abbiamo inquadrato. Magari ve lo facciamo vedere di nuovo per qualcosa che funzioni un po' meglio, ad esempio questa pianta, ecco qui, sta prendendo i colori principali e ha realizzato effettivamente qualcosa di vagamente fluoreale, quantomeno per la colorazione. Si tratta di una personalizzazione piccola, interessante, che comunque aggiunge personalità a questo smartphone che già spicca, diciamo evidentemente, per la cover posteriore fatta di LED. Per il momento, da questa rapida anteprima di Alcatel A5 LED è tutto, un saluto ai lettori di Android World in tweet da Giuseppe Deripoli.